Quando nella seconda metà degli anni 50 il mercato coperto di Via Monforte a Campobasso è stato costruito, era un edificio all'avanguardia. Su una vasta superficie spalmata su due piani trovava posto il meglio della produzione alimentare locale. Venditori di carne, formaggio, pesce, verdure esponevano sui loro banchetti e nelle loro piccole botteghe quello che producevano e coltivavano. Un luogo vivo che ogni giorno brulicava di gente che offriva merce, contrattava sul prezzo e poi spendeva con la soddisfazione di aver fatto un buon affare, dove si andava anche a fare quattro chiacchiere con chi era dietro al bancone, come se fosse un amico d'infanzia. Oggi di quella viva città commerciale che ha fatto del mercato coperto di Campobasso il centro degli acquisti della popolazione locale e non, fino agli anni 90, non resta più nulla. Qualche negoziante ancora resiste e continua testardamente ad esporre i suoi prodotti, ma i commenti e lo sconforto sono unanimi. I compratori sono pochi, la concorrenza dei supermercati e centri commerciali ha rappresentato la morte del mercato coperto di Via Monforte. Oltre a ciò c'è anche il problema della stabilità dell'edificio, una delle poche espressioni locali dell'architettura razionalista. Non è più sicuro e non è in regola con le norme antisismiche, impiantistiche e igienico-sanitarie. La mancanza di manutenzione ha provocato danni evidenti perché ormai gli spazi non sono più utilizzati. Su queste basi nasce il progetto di riqualificazione che ha in mente Palazzo San Giorgio, inserito nel programma straordinario di intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana dei comuni capoluogo per i quali Palazzo San Giorgio si è candidato. Sistemare l'area realizzando 70 parcheggi, 10-15 box, 400 metri destinate all'area mercato, 480 alla ristorazione, 300 per le botteghe e 90 a spazi espositivi. Un modo viene spiegato nel progetto per saldare il vecchio con il nuovo, recuperando tradizione e storia campobassana nonché lo stesso pregevole edificio, dandogli però una veste e una funzione moderna. Un rilancio del commercio e la speranza di riportare campobassani verso il centro della loro città.